Non c'è solo l'emergenza covid a determinare grande preoccupazione per le zone rosse e così anche per le disponibilità idriche negativamente condizionate da un inverno fino a Ravaro di significative precipitazioni. La carenza idrica del 2021 in Abruzzo è un effetto combinato del riscaldamento globale che sta di anno in anno prosciugando i fiumi e della dispersione d'acqua. Si parla del 55,6% riferito al 2018 causata da una rete cola a brodo cui non si è provveduto nell'ultimo trentennio. E se le province di Chieti e Pescara hanno pagato a caro prezzo, addirittura fino ai primi mesi attunnali, la crisi idrica decisamente meglio è andato per la provincia di Termo. Uno studio di confartigianato la posta tra le 15 migliori province italiane con il 27,3% di perdite idriche e tecniche rispetto al 42% della media nazionale. Un risultato possibile grazie agli investimenti mirati che la governance della Ruzzoreti ha messo in atto negli ultimi anni e che aumenta la fiducia in vista della prossima stagione estiva. Fortunatamente gli investimenti che noi abbiamo fatto sul territorio per quanto riguarda l'acquedotto ci hanno supportato lo scorso anno a gestire una situazione veramente molto pesante. Infatti la provincia di Termo è quella che forse ha sofferto di meno di quelle che hanno anche la costa e quindi l'aspetto marittimo per cui il turismo. Quest'anno ci auguriamo di essere sempre allo stesso livello dato che gli investimenti sono aumentati. Noi abbiamo il potabilizzatore che riusciamo di Montorio Alvomano che è un grande aiuto che ultimamente porta circa 800 litri d'acqua al secondo quindi è di grande supporto. Il Gran Sasso con tutta la gestione che ne connette quindi siamo abbastanza fiduciosi. Certo è che è stato un inverno particolarmente duro sotto questo profilo perché è piovuto pochissimo almeno fino ad ora.